Roma, 12 app, quasi 2000 metri quadrati di padiglione esclusivo, 60 produttori provenienti da tutte le province del Lazio, sono i numeri con cui la regione si presenterà al Vinitaly e al Solle Agri-Food, salone internazionale dell'agroalimentare di Qualit, anche questa edizione di Vinitaly vedrà il Lazio protagonista, nell'anno del cibo, per promuovere le eccellenze del vino e dell'olio, settori in cui il Lazio primeggia in maniera assoluta, per proporre ovviamente buone etichette, ma anche un modello di sviluppo per la nostra regione. Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti illustrando le iniziative con cui la regione si presenterà al Vinitaly. In questi anni i produttori hanno fatto passi da gigante, ma anche il sistema Lazio è più forte, ha detto, aumentano gli espositori, è più grande il padiglione. Lo scorso anno abbiamo avuto degli esiti positivi e ascoltare i produttori è servito molto a riconquistare delle presenze. Sono contento che alcune grandi etichette che se ne erano andate ritornino oggi nel nostro padiglione. Questa è una grande conquista di un lavoro di squadra. Poi ci saranno grandi chef per promuovere un'idea di qualità, ha concluso Zingaretti, legata al buon vino e al buon prodotto lavorato nel nostro territorio. Aranno in fiera, in stagio con Arsial, i ragazzi delle scuole alberghiere coinvolti nel contesto Il territorio in tavola, che premierà con 500 euro la squadra che avrà saputo raccontare meglio il proprio territorio. Saranno 28 gli appuntamenti nel padiglione Lazio e una ulteriore presentazione dedicata agli oli del sol con un unico filo conduttore, la rivendicazione degli spunti di unicità laziale, con Roma città italiana con il più alto numero di chef stellati in Italia, podio nazionale per numero produzioni tipiche e tradizionali. Saranno inoltre coinvolti i chef di altissimo livello, tra cui Antonello Colonna. Ci sarà anche una vetrina dedicata alla promozione turistica del Lazio per far conoscere ai professionisti del settore del vino in arrivo da tutto il mondo, il patrimonio di bellezze storiche e paesaggistiche dei territori. La scenografia del padiglione, disegnata dalla romana Alessandra Carloni, narra il racconto di un viaggio onirico su una mongolfiera, di un viaggiatore che, con sguardo sognante, attraversa tutte le bellezze culturali, territoriali e storiche offerte dal Lazio.